Mia mamma è stata operata qua al Monzino e nella sua stanza c'era una persona di una certa età che era da sola. Noi siamo una famiglia numerosa quindi io stavo più che altro con lei e lei anche se non parlava molto col suo sguardo, col suo fare, mi dimostrava che era contenta che io stessi con lei e quindi da lì ho detto sì voglio fare la volontaria al Monzino perché non mi piace che le persone in determinati momenti stiano da sole. Ciao sono Cinzia, mi chiamo Mario, ciao io sono Angela, ciao sono Aldo, sono volontario del centro cardiologico Monzino per vocazione. Questa idea sostanzialmente nasce circa qualche anno fa quando ancora io facevo il coordinatore infermieristico insieme a delle colleghe e insieme anche alla direzione dell'ospedale. Mi sono proprio sentita di dover fare qualcosa io in prima persona al di là del fatto che ho fatto per tanti anni l'infermiera ma in realtà non ho messo in gioco la mia professione di infermiera ma la mia professione di essere umano. Donare del tempo a gente che magari non sta bene secondo me è qualcosa che ha un valore importante. Il volontariato fa bene al cuore non soltanto quello dei nostri pazienti ma principalmente al nostro perché ti arricchisce. Mi sento veramente una persona migliore, mi sento molto più ricca. Grazie.